Per quanto riguarda la viabilità cittadina con il cantiere dello scolmatore del Bisagno che va avanti fortunatamente perché è un cantiere che metterà in sicurezza tutta la nostra città ed è un cantiere assolutamente indispensabile. Certo qualche piccolo disagio lo creerà soprattutto dal punto di vista della viabilità. Cosa succederà esattamente? Il cantiere che al momento attuale è su Viale Brigate si sposterà leggermente verso Corso Buonesaere si impegnando di fatto due corsie che al momento attuale sono riservate alle auto e ai mezzi pubblici. Cosa succederà esattamente dal 7 febbraio? Succederà che in direzione Levante verso Ponente ci sarà una corsia come quella attuale dei mezzi pubblici che percorrerà normalmente la strada. Mentre per quanto riguarda la direzione Ponente-Levante succederà che le attuali tre corsie diventeranno una soltanto. utilizzata per traffico privato e per mezzi pubblici. L'indicazione che noi vogliamo dare, il motivo per il quale facciamo questo video quest'oggi è proprio quella di indirizzare maggiormente le auto a percorrere non via 20 Settembre, pertanto via Cadorna e poi Corso Buonesaere, ma di percorrere via Armando Diaz e poi via Carlo Barabino dove la strada è stata portata ad essere due corsie per senso di marcia, nel senso che abbiamo due corsie in senso di marcia che vengono da Levante verso il Ponente e anche due che portano dal Ponente verso il Levante. Questo qua è un'indicazione importante proprio per evitare dei tappi nella viabilità e che rendano tutto il percorso un pochettino più fluido. Chiediamo scusa per questo disagio che diamo ai nostri concittadini, ma è una questione di sicurezza. La sicurezza è assolutamente importante sulla quale vogliamo metterci la faccia. Grazie a tutti.